Segui un tamburo, parrapapampam, con i soldati, parrapapampam. 40 voci per cantare la montagna e festeggiare 50 anni della sezione aretina del Club Alpino Italiano per tutti il CAI di Arezzo. Celebrazioni iniziate con il concerto dei canti di montagna del coro del CAI di Firenze La Martinella in piazza San Michele. E' stata anche l'occasione per ripercorrere il lungo cammino della sezione aretina, rinata nel 1972 dopo la forzata pausa bellica. Il CAI è un punto di riferimento per chi ama la montagna, per chi vuole andare in montagna e per chi ha cura dell'ambiente. La sezione di Arezzo può offrire in questo senso e in tanti altri modi tutto quello che può servire proprio per questa attività. Il CAI di Arezzo offre istruttori nazionali di alpinismo, di ferrata, di sci alpinismo, di escursionismo, di tutto quello che è la pratica di montagna e di ambiente. Proprio in questi giorni infine ha visto alla luce un coprogetto CAI Arezzo in Tour per un miglior collegamento tra i percorsi del turismo escursionistico con la città. Noi ci siamo impegnati a curare, manutenere i sentieri interessati a questi tipi di attività e soprattutto a cercare il sistema di farli partire più vicino possibile dalla città in modo che il turista che viene può uscire dall'albergo, andare a piedi oppure affittare la bicicletta perché saranno i sentieri anche da mountain bike e quindi poter fare quello che è il turismo che in questo momento sta tirando molto.